La questione Ucraina e la questione medio orientale. Volevo su entrambe le questioni avere una sua visione di massima e poi specificare qual è il contributo che l'Italia sta giocando in questa fase. Tutti e due hanno una cosa in comune, stanno dilaniando parti diverse del mondo, stanno a cascata rendendo più insicuro il mondo in cui tutti viviamo perché non hanno soltanto conseguenze locali, hanno conseguenze globali, quindi toccano anche l'Italia, toccano anche la nostra sicurezza, la nostra stabilità, la nostra ricchezza, la nostra possibilità di commercio. Quindi sono due vicende, una che è iniziata quasi due anni fa nel cuore dell'Europa e che non accena a finire, è arrivata in un momento statico in cui la Russia ha fermato il suo attacco l'Ucraina non riesce a riprendersi i territori occupati per cui avranno un inverno durissimo per gli ucraini e io lo ripeto ai cittadini annoiati italiani noi ce la dimentichiamo perché ormai ne abbiamo fatto il callo, loro ogni giorno diciamo sulla testa tentinaia di bombe, ogni giorno si vengono sparati decine di migliaia o centinaia di migliaia di proiettili ogni giorno muoiono persone non solo militari ma soprattutto civili e questo sarà un problema che io mi auguro si possa iniziare ad affrontare in termini politici e diplomatici questa primavera non penso che l'inverno ci consentirà di farlo. L'altro tema è un tema altrettanto rilevante, una ferita che si è aperta nel Medio Oriente in un'area di fortissima instabilità dove all'attacco terroristico di Hamas ha risposto Israele e quello che l'Italia sta facendo in tutti i due i campi in modo più facile perché è più visibile in Medio Oriente portare aiuti, aiuti umanitari stiamo portando, abbiamo lavorato una nave con un ospedale, stiamo progettando un ospedale da campo stiamo aiutando a trasportare i bambini negli ospedali abbiamo mandato aiuti con gli aerei sempre di tipo sanitario o viveri, quello che manca stiamo cercando lì anche lì di buttare acqua sul fuoco, di cercare di fermare, di spiegare a Israele che c'è un limite con cui reagiscono le nazioni, gli stati di diritto che è quello di rispettare le convenzioni internazionali che esistono anche nella guerra che può magari coinvolgere i militari ma deve lasciare fuori i bambini, i civili, le donne, gli uomini abbiamo già visto anche in questa fase militare dell'esercito israeliano a casa dei grandi cambiamenti che stanno avvenendo anche con la tecnologia nel mondo della difesa ecco lei come immagina fra dieci anni, facciamo un salto in avanti di dieci anni la difesa nel 2033 non solo nel 2033 ma negli anni successivi è una difesa che sarà combattuta più da macchine che da uomini una difesa in cui gli aerei, i mezzi terrestri, i mezzi navali, i mezzi sottomarini saranno probabilmente comandati a distanza in cui servirà più che la capacità di stare su un mezzo la velocità mentale per cui saranno mezzi che saranno comandati da persone sempre più giovani perché come li sa il nostro cervello smette di... diminuisce la velocità dopo una certa età e quindi sarà una guerra combattuta principalmente con la tecnologia anche perché le differenze di popolazioni che ci sono tra le nazioni faranno sì che le nazioni che hanno più ricchezza ma meno popolazione punteranno tutte sulla tecnologia non ho uomini ma posso avere lo stesso più mezzi per cui sarà una rincorsa sempre più forte verso la tecnologia io mi auguro che questo distanziamento degli uomini dalla guerra combattuta in qualche modo possa allontanare tutta l'umanità dalla guerra a tuo curo Cambiando pagina la situazione economica italiana e poi come vede il futuro, lo sviluppo del paese sia nel breve che nel medio periodo è fiducioso? Sono pagato per essere fiducioso facendo il ministro facendo la tara vediamo nel senso che devo puntare devo lavorare per essere fiducioso e per dare fiducia ci ho detto la situazione economica purtroppo in momenti come questi non è frutto di scelte nazionali ma frutto di quello che succede fuori come abbiamo capito bene l'aumento dei tassi di interesse l'inflazione, l'aumento dei tassi di interesse l'aumento del costo delle materie prime dell'energia hanno in qualche modo colpito una nazione come è nostra che deve importare tutto dall'energia alle materie prime per cui c'è una frenata dal punto di vista della produzione industriale che segue quella tedesca come c'è stata in tedesca con meno brutalità in Italia il nostro prodotto interlo-lord la tedesca è in recessione la tedesca è in recessione su noi ha avuto un impatto positivo che i tedeschi non hanno il turismo che in qualche modo fa parte delle entrate italiane e che i tedeschi ad esempio non hanno che è un elemento che anche in crisi industriale può reggere il reggio funge in qualche modo esattamente l'ammortizzatore il futuro dipenderà anche da molto dei fatti di cui parlavamo prima cioè da come quale sarà l'evoluzione delle guerre che sono in corso se inizierà un percorso di pace e anche molto da come l'inflazione frenerà nel prossimo anno perché la campagna elettorale americana normalmente tende a far scendere l'inflazione a far scendere i tassi di interessi con una conseguenza anche europea per cui non dico ottimismo ma diciamo un cauto ottimismo si cerca di avere perché comunque anche i tassi di interesse la Garda ha detto beh non prima di sei mesi non prima di sei mesi forse fra nove mesi potrebbero cominciare a scendere bene io ringrazio davvero tanto il ministro della difesa Guido Crosetto che ci ha fatto un quadro esauriente abbiamo trattato due settori quello specifico ovviamente della difesa e dell'impegno italiano nella situazione internazionale nei punti caldi della situazione internazionale ma anche quello dell'economia grazie ancora grazie a lei grazie aby grazie a least grazie a tutti 2023 è l'occasione importante in cui vengono consegnati i premi da parte di Asonex che è l'associazione che raggruppa un po' tutto l'ecosistema che gira intorno al segmento Euronest Cross Milan di Borsa Italiana e ospite d'onore Ferruccio De Bortoli, l'avete riconosciuto, mitico direttore del Corriere della Sera, è stato, diciamo la verità invece, io le volevo chiedere, visto che lei tra l'altro interviene spesso su temi economici, sugli editoriali sul Corriere della Sera, l'Italia che dobbiamo aspettarci, avrebbe detto Costanzo cosa c'è detto l'angolo? Intanto dobbiamo vedere quale sarà il livello di questa probabile anche se non sicura recessione, quanto sarà questo rallentamento? Allora lì misureremo la sostenibilità del nostro debito, dobbiamo aspettare ovviamente l'ultimo giudizio dell'agenzia di reti, tra l'altro più importante che è Moody's, le aspettative non sono così negative come quelle che potevamo prospettarci all'inizio dell'autunno, nel senso che tutto sommato il sistema industriale tiene, le imprese sono molto capitalizzate, quelle che esportano continuano ad esportare molto bene, certo c'è una riflessione di fondo che dobbiamo fare sul nostro sistema, domanda alla quale non so dare una risposta, viviamo al di sopra delle nostre possibilità, ecco questa è una domanda che ci dovremmo porre frequentemente, è possibile andare avanti, altra domanda, so che alle domande non bisognerebbe rispondere con delle domande ma le domande hanno dentro ovviamente un piccolo ragionamento, altro quesito insomma è possibile andare avanti con una parte relativamente piccola del nostro paese che sopporta i costi anche della maggioranza degli altri, è vero che noi lavoriamo tanto, abbiamo una storia di lavoro ma non abbiamo così tanti occupati, certo abbiamo avuto un record di occupazione ma rispetto alla popolazione attiva e la nostra popolazione attiva non è così elevata come quella di altri paesi, il sistema previdenziale è sostenibile, è giusto e corretto dare ancora delle aspettative ai pensionati sacrificando i giovani, insomma io penso che un discorso di verità e questo governo potrebbe farlo benissimo perché ha di fronte 5 anni e soprattutto non ha un'opposizione, forse potrebbe farlo e credo che la maggioranza degli italiani, le famiglie sono gestite meglio di quanto non sia gestato lo Stato, sono evitate meno delle famiglie europee, hanno ancora un buon livello di risparmio e penso che le famiglie un discorso di verità lo capirebbero meglio di tante promesse vane e che inevitabilmente non vengono mantenute. Premio Italia Informa 2023, sesta edizione, siamo, l'avete credo riconosciuto a tutti, con il dottor Antonio Paduelli che è il presidente dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana. Uno non le può non chiedere dell'aumento dei tassi di interesse e dei problemi che ha provocato e sta provocando ai conti pubblici italiani perché ovviamente essendo un paese molto indebitato aumenta il costo del servizio del debito. Però mi ha colpito una cosa, in una recente intervista lecchia su un tetto al debito pubblico che appunto diciamo è il problema dei problemi italiani. Da questo punto di vista che considerazioni può fare sulla manovra del governo? Il debito pubblico italiano sta crescendo ininterrottamente tutti gli anni dal 1967 e di conseguenza bisogna fissare un tetto. Non può crescere all'infinito come una variabile indipendente da tutto. e io parlo di cifra assoluta ovvero sia del totale del debito perché il dibattito ormai da molti anni è incentrato sul rapporto fra debito e prodotto interno lordo, fra deficit e prodotto interno lordo. Questo è un parametro importantissimo, fondamentale ma gli interessi si pagano sulla cifra assoluta, non sulla percentuale rispetto al PIL. Quindi bisogna trovare il modo per bloccare la crescita all'infinito. E questo elemento, questa scelta che auspico porterebbe una ulteriore credibilità sui mercati internazionali all'Italia, ridurrebbe anche ulteriormente lo spread e darebbe soltanzialmente una maggiore innesto di fiducia. Questo è il punto chiave. I tassi li decidono le banche centrali. Il tasso BCE è il secondo più alto di un ventennio di storia dell'euro, ma tutto sommato è meno alto del tasso di sconto della Gran Bretagna e degli Stati Uniti d'America, per non parlare dei paesi europei, non euro e di quelli di altre zone del mondo a cominciare dal Sud America. Però l'inflazione incomincia ad arretare e quindi le prospettive dei grandi esperti di finanza internazionale indicano che nei prossimi mesi non ci dovrebbero essere più aumenti in Europa del tasso di sconto e alla fine del secondo semestre del 2024 potrebbe esserci perfino l'inizio di una riduzione. L'aumento così repentino dei tassi di interesse ha posto un altro problema, quello dei crediti deteriorati. Da questo punto di vista qual è stato finora l'impatto sulle banche italiane dal punto di vista dei crediti deteriorati e se, come sembra, almeno come ha detto la Presidente a Bicele Lagarde, non se ne parla di una riduzione di prima di due semestri, io penso mettiamo anche prima di nove mesi. Cosa pensa che accadrà se i tassi rimangono a questo livello proprio sul problema dei crediti deteriorati? Il rischio della crescita dei deteriorati c'è, è un rischio reale sul quale il Presidente della Vigilanza Unica della BCE ha anticipato già da diversi mesi dei moniti. Le banche operanti in Italia sono venute fuori da un decennio di difficoltà e hanno molto affinato le proprie tecniche anche con l'ulteriore severità delle norme che sono state inserite. nel secondo decennio di questo nuovo millennio appunto dalla BCE e quindi il rischio sussiste però viene gestito con la grande prudenza e le regole severe della BCE, prudenza delle banche commerciali e regole severe comunitarie e quindi non ci dovrebbe essere una esplosione come quella che abbiamo visto 7-8 anni fa, però chiaramente la tendenza è alla crescita delle difficoltà anche se più graduale. È ovvio che un aumento dei tassi di interesse, quindi un rincaro del costo del danaro comporta una riduzione dei prestiti, un po' perché ne vengono magari chiesti di meno, dall'altro lato perché le banche ovviamente si fanno più prudenti. Qual è la situazione? Molte associazioni di categoria si lamentano che il credito è in forte frenata nei confronti di alcuni settori dell'economia. Quando aumentano i prestiti famiglie e imprese si indebitano di più, quindi non è che l'indicatore sia di trionfalismo. Non è che quando le persone e le imprese si indebitano siamo tutti contenti che l'indebitamento generale cresce e di conseguenza se l'indebitamento generale non cresce non è che dobbiamo fare dei funerali. Negli anni passati c'è stata una forte capacità delle imprese, soprattutto all'uscita della pandemia e l'anno del grande rimbalzo che è stato nel 2021, ma con un trascinamento positivo anche nel 2022, c'è stata una grande capacità delle imprese di accantonare a proprie riserve di liquidità molti utili. È chiaro che nel momento in cui il denaro costa le imprese, prima di chiederla prestito, utilizzano il proprio. Dall'altra parte le famiglie erano abituate a mutui a tasso fisso, veramente a costi infimi e conseguentemente si guardano più attente, sono più guardinghe nel compracasa, leggono i giornali, vedono che fra un paio di semestri i tassi dovrebbero cominciare a scendere e quindi non corrono a fare acquisti e a stipulare mutui. Quindi dobbiamo vedere il quadro nella oggettività, non nel semplicismo degli indicatori. Grazie mille ad Antonio Paduelli, presidente dell'Associazione Bancaria Italiana in Anacronia. Grazie a lei. Grazie, grazie. Grazie a lei. Grazie a lei è un brand inossidabile. Ecco, e lei volevo proprio chiedere, avete approvato un ambizioso piano industriale al 2032 che prevede investimenti, mi sembra, per 200 miliardi circa, insomma 200 miliardi di euro. Ecco, quali sono i principali ambiti che beneficeranno di questo importante, corposissimo piano di investimenti? E' un piano che più che ambizioso definirei necessario, nel senso che dobbiamo partire da un presupposto. Noi abbiamo delle infrastrutture che hanno mediamente 70 anni di età, sia ferroviari che stradali. Il gruppo ferrovie non è solo ferrovie ma anche strade attraverso Anas. Quindi noi abbiamo lanciato un piano di 200 miliardi che tiene conto di tutta una serie di progetti necessari per ammodernare la nostra rete e per soprattutto far fronte a quello che è un aumento di traffico e quindi necessariamente un adeguamento della capacità. Tenete conto che noi gestiamo 17 mila chilometri di rete ferroviaria e 30 mila chilometri di strade. Detto questo, il nostro piano prevede investimenti importanti soprattutto sull'infrastruttura. Il principale contributore è il PNRR dove evidentemente siamo stati assegnati per 25 miliardi di euro che ci serviranno per avviare nuovi progetti ma evidentemente 25 miliardi su 180 che dobbiamo fare sulle infrastrutture sono una cifra importante ma non sono tutto. Nei dieci anni quindi abbiamo l'obiettivo di realizzare queste opere e soprattutto quindi di contribuire a che cosa? Da una parte aumentare del 30% la possibilità di utilizzare la rete ferroviaria come trasporto passeggeri raddoppiare la quota della rete ferroviaria, del contributo della rete ferroviaria e quindi dei treni, merci per il trasporto delle merci che oggi copre soltanto il 10%, dobbiamo raggiungere un 20% che è sostanzialmente una media europea. Ferrovie di questo ha un 50% di quota di mercato. Quindi aumento della possibilità e capacità di trasporto passeggeri, ferroviaria, un maggior collegamento con le infrastrutture in cui entrano sia passeggeri che merci, pensiamo ai porti, pensiamo agli aeroporti, un grande investimento nella modernamento della flotta dei treni, avremo la flotta treni regionali più giovani d'Europa a termine di questo piano e investimenti in alte velocità dove siamo leader in Italia ma anche all'estero e in particolar modo in Spagna in Francia. Senta, a proposito di cantieri, avete questa iniziativa che è molto carina, molto interessante, i Cantieri Parlanti, che è appunto l'iniziativa del gruppo Ferrovia dello Stato, RFI, Dalferre, insomma, che è sviluppato credo in collaborazione poi con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che dà voce a oltre 30 opere strategiche in tutta Italia. Ce ne può parlare, spiegarcela meglio? Per noi è un'iniziativa molto importante perché penso che quando si va a fare un'opera infrastrutturale noi diciamo in casa si va in casa di altri, quindi dobbiamo informare, dobbiamo rendere accessibile e fruibile l'informazione relativamente all'avanzamento del progetto, quando termina, quali sono gli obiettivi, come stanno andando avanti i lavori. Sono 30 i cantieri che oggi sono inseriti in questo luogo virtuale, dove si può accedere attraverso la rete, ma ovviamente abbiamo intenzione di ampliarli proprio per creare una sorta di inclusività e di dialogo costante con il territorio. Accogliamo anche con grande piacere commenti, buoni e meno buoni, ma sono necessari per poter essere vicino alle persone sul territorio. D'altronde lei è un amante della montagna e della musica classica, quindi sa ascoltare, no, ma diciamo che la montagna e i silenzi. Ecco, volevo chiedere, mi ha incuriosito questa cosa, ma è un modo per evadere così, insomma, dai problemi spesso assillanti che va nella vita professionale o proprio rappresentano la sua filosofia di vita e poi anche di queste due passioni. Cosa porta nel suo lavoro quotidiano? Certamente potersi raccogliere un attimo con se stessi, ascoltando i rumori del silenzio, tra virgolette, la musica classica, se si è a casa, aiuta molto a riflettere, aiuta molto a analizzare i problemi che magari bisogna affronteggiare giorno per giorno, un pochino distaccati, quindi ti aiuta ad avere una visione dall'esterno. Questo contribuisce molto anche nel lavoro, perché ritengo sia necessario anche mantenersi sufficientemente lucidi e freddi per prendere le decisioni giuste. La musica classica, la passeggiata, il contatto con la natura ti aiuta evidentemente anche a rilassarti, ma direi che è un grande contributo nel svolgere il proprio ruolo in modo completo, in modo distaccato, ma distaccato nel senso giusto, cioè poter avere un giudizio il più oggettivo possibile. Grazie mille al dottor Luigi Ferraris, che è amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, per il quadro che ci ha fatto e anche per quest'ultima cosa personale, mi perdoni che siamo andati a sfrucugliare dalle sue passioni, l'abbiamo trovata e abbiamo cercato di immaginare una domanda su queste. Grazie a voi. Grazie a voi. Premi dell'informa 2023, sesta edizione, tre premiati, il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, grazie intanto per l'intervista. Io voglio iniziare con una valutazione. Io ricordo i tempi della Bonomiana, da Paolo Bonomi, fondatore della Coldiretti, che l'ha diretta dal 1944, mi sembra il 1980. Addirittura arrivò ad avere 100 parlamentari, forse anzi meglio, 100 deputati, insomma, era una potenza. I tempi sono cambiati, ovviamente, però comunque voi venite definiti una lobby molto potente. Si ritrova in questa definizione? No, nel senso che noi siamo un'organizzazione di rappresentanza che agisce in termini di dialogo con le forze di governo, con le forze di opposizione, che si sta specializzando sempre di più in una costruzione di rapporti, di sintonia, di confronto a livello europeo con altri stati membri, perché riteniamo che Bruxelles sia uno dei luoghi più importanti che vada presidiato, ma nello stesso tempo siamo un'organizzazione oggi diversa rispetto a quella che volle Paolo Bonomi, nonostante nelle radici ci riconosciamo assolutamente, ma siamo diversi perché oggi non siamo presenti in Parlamento, ma costruiamo valori economici particolarmente rilevanti. Mi piace sottolineare che grazie alla filiera agricola oggi si sviluppa un valore nel nostro Paese di 585 miliardi, di 4 milioni di occupati, di 60 miliardi di valore delle esportazioni, quindi c'è molto da poter fare. Ecco, proprio parlando della sua gestione di col diretti, quali sono, sono state e sono le battaglie più significative su cui si è impegnato? Ci sono molte battaglie che stiamo facendo, nell'interesse del mondo che rappresentiamo. Il primo è una sfida di carattere tecnologico, digitale, che riguarderà tutte le filiere produttive, l'utilizzo della blockchain, del QR code, dare informazioni ai cittadini, ai consumatori. Una seconda legata al tema infrastrutturale del Paese. Abbiamo bisogno di nuove infrastrutture diverse rispetto a quelle del passato. Il nostro Paese si era contraddistinto per investire molto sulle autostrade, quindi sul trasporto su gomma. Oggi dobbiamo spostare l'attenzione sul trasporto su rotaie, più sostenibile anche in termini di emissioni, è più veloce e quindi ci porta a competere, ha un costo più basso. Il trasporto marittimo che sarà di grandissima importanza e tutti gli snodi legati alla logistica, compreso il trasporto aereo, sistema cargo, per far viaggiare le nostre eccellenze e farle arrivare in tempi brevi in tutto il mondo. Contestualmente sfide che riguardano anche la difesa degli interessi dei cittadini, ma anche dei nostri settori produttivi. La lotta a tutto ciò che viene fatto in laboratorio alternativo al cibo tradizionale. Senta, per rimanere nel campo dell'accusa che però sono anche, come dire, l'altra faccia della medaglia della forza, dell'organizzazione, se non vi considerava nessuno credo sarebbe stato peggio. Ecco, un'altra accusa è che voi fate campagne strumentali per portare avanti una politica in realtà protezionistica. Come risponde? Ma è vero assolutamente il contrario. Noi su tematiche di cui nessuno voleva dibattere, penso proprio ai cibi prodotti in laboratorio, siamo stati la prima organizzazione a livello mondiale a far sì che ce ne fosse una conoscenza all'interno della popolazione, che più di 2 milioni di cittadini potessero sottoscrivere una nostra petizione, più di 3 mila consigli comunali, di tutte le forze politiche altrettanto hanno fatto nel deliberare a favore del divieto di vendita e commercializzazione, non della ricerca, per quanto riguarda appunto cibi fatti in laboratorio, così per tutte le regioni italiane fino a portare queste istanze all'interno delle stanze del governo e creare le condizioni perché proprio nelle giornate di ieri sia stata votata con grande maggioranza tutto ciò di cui stavamo raccontando, quindi il divieto della vendita e commercializzazione mentre sosteniamo la ricerca. Dibattito che dovrà essere portato in Europa in termini di attenzione, ma tutto l'obiettivo è posto a tutela della salute dei cittadini. Noi riteniamo, visto che parliamo di cellule staminali e le cellule staminali oggi vengono utilizzate solo nella farmaceutica e nella medicina, che questi prodotti siano equiparati ai farmaci. Laddove noi dovessimo avere tutte le garanzie potranno essere vendute e commercializzati, poniamo comunque un'attenzione sul fatto che non venga cancellata una storia millenaria che ci riguarda e che vede l'Italia con la maggior biodiversità a livello mondiale e questa storia si traduce, come dicevamo prima, in un grande valore anche di carattere economico. Grazie mille a Ettore Prandini, presidente di Goldiretti, la più importante organizzazione agricola italiana. Grazie a voi.